Numerose le polemiche che hanno investito Arco in questi ultimi giorni. Al centro del dibattito il ritorno dell'ex sindaco dimissionario Paolo Mattei sulla scena politica. In merito si è anche esposto Eleuterio Arcese. Basta polemiche, in questo modo Arco resta ferma, ha commentato l'imprenditore. Ci si sieda intorno a un tavolo e si ragioni in modo costruttivo per il bene del Paese. Ad Arco abbiamo diverse figure dirigenziali di alto livello che sono un patrimonio di idee ed esperienza, sono una risorsa da sfruttare. Non stiamo parlando di politica ma di doti manageriali riconosciute. Arcese sottolinea l'annoso problema delle incompiute di Arco. Ci sono tanti fabbricati abbandonati, vuoti che crollano. Solo se il pubblico e il privato dialogano e collaborano si può fare qualcosa. Bisogna però che il Comune venga incontro alle tempistiche del privato, altrimenti ci si perde in lungaggini e si demotivano gli attori delle operazioni. Bisogna lavorare insieme al di là della politica, continua. Da un lato abbiamo amministratori giovani, dall'altro ci sono persone di grande esperienza manageriale, come l'ingegner Mattei. Bisognerebbe metterli assieme in una collaborazione che unisca le capacità dell'amministrazione all'inventiva e alle proposte di chi ha lavorato per anni da manager di alto livello. Capita che mi fermino per strada e mi ringrazino per quello che ho fatto per Arco, dice Arcese, ma io cosa ho fatto? Non mi lasciano fare niente. Ora però ho del tempo a disposizione e mi piacerebbe quindi poter fare qualcosa, raccogliendo intorno al tavolo dell'amministrazione manager e imprenditori, con una visione per il Paese e disponibili a consigliare il Comune.